Amici dei fuoricampi di tutto Venezia Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati con il primo appuntamento del 2022 con l'Opinione, qui l'ha sottoparlato come sempre il vostro Davide Marchiol per fare il punto della situazione in casa Venezia alla luce di quello che è il risultato finale dell'ultima partita, ovvero Venezia-Milan finito con un abbastanza senza discussioni 3-0 in favore dei rossoneri. Prima di tutto vi invito ovviamente a supportarci iscrivendovi al nostro canale se vi possono piacere o vi piacciono i nostri contenuti e soprattutto ricordatevi, anche se siete già iscritti, di lasciare un like a questo video perché like e commenti aiutano tantissimo il video ad andare in rotazione su YouTube. Gli algoritmi dei social funzionano così, più aumentano le interazioni più il video viene visto e sostanzialmente funziona diciamo come una condivisione. Poi se volete condividerelo su altre piattaforme non fa solo che piacere, quindi continuate a supportarci tantissimo come state già facendo e vedrete che anche nel 2022 vi porteremo altre sorprese come è fatto nel 2021. Detto questo, finiti i preamboli, possiamo passare alla partita a una partita che inizia per la terza volta con un risultato di 1-0 per l'avversario. Cioè ormai c'è questa costante di non iniziare solo 0-0 ma iniziare già con un gol di vantaggio per gli avversari e finché magari davanti hai la Sampdoria e te la giochi allora puoi recuperarla. Quando di fronte hai la Lazio, ancora ancora, quando hai il Milan andare sotto subito diventa abbastanza un problema. Ora, bellissima azione di Leao, Ibra-Ibra, secondo me su quel filtrante Svoboda deve leggerla meglio. Purtroppo l'Austriaco fa veramente una brutta, brutta, brutta partita e qua si aprirà adesso il dibattito perché è chiaro che, come ha detto Zanetti, un infortunio come ha avuto lui alla schiena per un giocatore della sua struttura fisica pesa. È pesante perché ti manda molto indietro di condizione, devi lavorare tanto per tornare ai tuoi livelli, per ritrovare un certo tipo di lucidità, di costanza. Calcolando che a destra non avrai i buei anche per un mese e mezzo, quindi anche lì sei contato, a questo punto vieni a pensare che un rinforzo difensivo capace magari di giocare sia centralmente che esternamente a destra potrebbe non essere una soluzione così azzardata. Ho visto che molti, sulla pagina ufficiale dei social del Venezia, che dicevano di farti schiare Modolo e non Svoboda Modolo, non poteva giocare. Modolo, e l'ho detto Zanetti in conferenza stampa, aveva un problema fisico, aveva una noia muscolare, è stato portato in panchina giusto per un'eventuale emergenza, ma aveva pochissimi minuti nelle gambe e giocando avrebbe comunque rischiato di peggiorare la sua situazione, quindi era proprio l'uomo che ti porti in caso ci sia una pezza da mettere di estrema emergenza, non era abile e arruolabile il capitano, ecco perché Svoboda era scontato che ci fosse lui in campo, meno scontato era che purtroppo fosse una prestazione così, anche perché in avvio di campionato aveva fatto, cioè in avvio subito no, perché tutto è stato un po' così, però nella fase centrale del girone d'andata dove, insomma, in quella fascia dove hai battuto la Fiorentina e hai parecciato con Cagliari e Torino, Svoboda era stato schierato al posto di Caldara e aveva fatto molto bene. Poi è chiaro, ci sarebbe anche da capire, cioè non è anche da capire in realtà, c'è poco da capire, chiunque in società si è lamentato per il fatto che Caldara non era disponibile oggi, ma d'altronde mi sembra che la confusione stia regnando abbastanza sovrana da parte delle istituzioni sulla situazione, quindi purtroppo quando hai capito che il match con la Salernitana non si sarebbe giocato, temo un po' tutti, davvero per scontato che Caldara non ci sarebbe stato. Quindi adesso vedremo cosa fa decidere la società. Chiaro, la prestazione brutta resta di Svoboda, che parte secondo me proprio dal primo minuto, cioè non ha mai dato sicurezza al reparto. A sinistra si è visto quei titolari, quei titolari o come ceccaroni e apps, insomma la differenza, cioè si è vista, è stata abbastanza più solida, poi chiaro non c'era layout su quella fassa, c'era un Salernitana che a parte il calcione rifilato abbastanza gratuitamente a Busio, si salva perché non guarda Busio, si salva perché non guarda Busio, sennò lì il rosso era sacrosanto, calcolando che nel regolamento ho scritto che devi anche valutare la cattiveria, sarei me che sta guardando il pallone e al quinto minuto e ti salvi lì. Però quel calcione, secondo me Busio, lo ha sentito e lo sentirà per un po', perché gli arriva sulle parti molli del corpo completamente all'improvviso e, insomma, avrei evitato, ecco, visto che il pallone era raggiungibile. Bene Cuisance, devo dire bene Cuisance, ha fatto intravedere il suo talento, la sua posizione in campo non è definibile, nel senso che ha perdito mezzare a destra, ma sono sicuro che si invertirà spesso, con Busio come ha già iniziato a fare adesso in campo. Adesso dovresti iniziare a avere con le due mezzali interscambiabili per aumentare, oltre ad aver aumentato la qualità, aumenti anche l'imprevedibilità, che è probabilmente l'arma principale in serie A per riuscire ad essere pericolosa ed efficace. Adesso hai Busio e Cuisance che possono invertirsi spesso per cercare assist e tiro a seconda di chi vuole andare sul piede forte, di chi vuole andare invece a rifinire, quella può essere veramente un'arma importante. Poi sì, è chiaro che con uno zovo da così viene da pensare, magari Ampadu poteva giocare a fianco a Ceccaroni. Però Ampadu ti serviva lì, perché comunque vacca non c'è e avessi dovuto far giocare a un Fiordilino che ha giocato giusto qualche minuto nel giro in andata per i problemi fisici che sappiamo, prima la spalla e poi la schiena. Quindi oggi difensivamente parlando eri un po' bloccato e legato. Poi è chiaro, sono quasi tutte disattenzioni più che problemi tecnici. Quindi probabilmente sarà decisivo poi il parere di Zanetti in fase di decisioni sul mercato. Credo che sarai la chiave di volta, perché a livello tecnico-tattico la partita il Venezia più o meno la indovina. Cioè fa il Venezia, ha il netto del gol preso, almeno nel primo tempo si difende con ordine, prova a manovrare, a costruire e costruisce. Poi Aramu fa quel che può, cioè prova ad inventare con circa più o meno quasi successo qualche buona azione, da là qualche buona azione. Poi sì, Okereke ed Henry erano veramente tenuti bene d'occhio. Si può dire che Henry non si muove tanto, però non gli arrivano neanche palloni alti da giocare. È più Okereke che dovrebbe magari, che so, con una percussione provare a sfondare le linee della difesa e approfittarne per mettere un buon servizio a Henry. Insomma, sì, in aria continua ad esserci quel non so bene cosa fare che ti mette anche in difficoltà, perché poi non capisci bene quale sia l'effettivo piano tattico. Mettere palloni alti per Henry ne arrivano pochini. Creare superietà numerica offensivamente non ci riesci quasi mai. È sempre lì il problema, non riesci mai ad aumentare nel modo giusto la tua pericolosità offensiva, al netto del fatto che comunque davanti a David Milan e comunque in queste gare per una squadra come il Venezia è difficile fare punti, per quanto concordo con Tainiti devi comunque provarci, perché i punti pesanti possono arrivare da tutte le gare, ma una sconfitta ci poteva stare probabilmente sul risultato di 3-0 per dire 20 minuti a Ford e gli avrei dati. Poi sì, sul secondo tempo ho no, perché comunque prendi l'ennesimo gol in avvio di frazione con stavolta Mazzocchi che viene fatto volare via da Teorinandes con una facilità impressionante con una staffilata da posizione avvicinata sul primo palo, su cui Romero può fare relativamente. E poi sul secondo c'è una follia di svoboda, cioè al 59esimo la perita era già finita, quindi mi ritrovo anche a dover commentare una perita molto più corta che non si è spalmata su tutti i 90 minuti, sostanzialmente è durata un'ora o poco di più. Cambi a quel punto, sì, hai provato qualcosina, Cernigoi, Benino, prova a dare un po' di carica, prova qualche tiro dalla distanza, anche perché probabilmente ha capito che con l'arrivo di Cuisance dovrà dare ancora di più per riuscire ad avere il suo spazio. Keane prova qualche dribbling, qualcosa, ma la partita ormai è già finita, perché recuperare tre gol al Milan in mezz'ora è sostanzialmente impossibile. E' un peccato, perché l'hai buttata via, l'hai buttata via subito, cioè, ripeto, a livello tecnico, a livello tattico e a livello di idea sulla manovra in generale c'è Rian che mancano, manca come sempre quel cosino agli ultimi metri e poi sempre gli stessi errori e Zanetti infatti in post partita era abbastanza incupito, perché quella è sempre quella, cioè, tre partite, che lo diciamo, ci ritorniamo a dirlo, non puoi essere così allegro, così morbido in Serie A, ti puniscono, ma 100%, ti salvi una volta, ecco, cominciamo con la Sampdoria, in avvio di ripresa con la Sampdoria, Tosby non ti punisce, ma la manda fuori, ma in tre partite ti capita una, negli altri cinque frazioni di tempo viene sistematicamente punito. Adesso vediamo cosa porterà il mercato, non sono convinto al 100% che possa essere quella la soluzione definitiva, ma a quel punto se può aiutare in qualche modo, dando qualche soluzione in più, magari soprattutto dietro, visto magari i problemi di Suovoda e l'assenza di buoi per almeno un mese, allora beh, venga, poi offensivamente anche lì, vediamo, non serve il profilo adatto per effettivamente a salire di questa squadra, ormai non è chiunque prendi meglio, no, perché comunque la squadra le sue idee, le sue caratteristiche le ha e adesso vediamo con l'auto Poggi e Zanetti e tutto il resto della componente tecnica della dirigenza come si vorranno muovere. Letto questo non mi resta che ringraziare per l'attenzione, ci vedremo mercoledì nel post partita della gara di Coppa Italia con l'Atalanta che è stata stata spostata dalle 14.30 alle 17.30, quindi ci vedremo alla sera e non al pomeriggio, vi ricordo, like se vi va, commento per aiutarci a andare il video più in alto nelle graduatorie di YouTube, non mi resta che salutarvi, grazie ancora per l'attenzione, alla prossima, ciao!